Ciao amici, bentrovati su Pausa Caffè Live, un saluto da Max, parliamo di Grande Fratello. Allora, ci abbiamo un bel faccia a faccia tra Luca Salatino e Soraya Allam. Il colpo di scena inaspettato è arrivato così all'improvviso sulle Alpi del Monviso, sì, anticipato da Alfonso Signorini, che ha motivato le ragioni dell'incontro. Spiega il conduttore e dice Luca, fin dall'inizio è stato tormentato dall'assenza di Soraya. Spesso al mattino guarda nel vuoto, così perso, pensa a Soraya e piange. Ogni mattina si dispera perché gli manca come l'aria. E questa sera lei è qui per metterlo davanti a una scelta definitiva. Si è stancata di vederlo soffrire così. Il papà di Luca è furibondo, si è stancato di vedere il figlio piangere tutti i giorni. E questa sera Soraya gli chiederà di cominciare un nuovo Grande Fratello, oppure abbandonare il programma insieme a lei. E dopo questa premessa è iniziato l'incontro partito dalla lettera che lei aveva fatto recapitare giorni fa all'interno della casa. Eh, hai sentito la lettera. Volevo dirti di stare tranquillo perché sto pensando a tutto, tutto, tutto. La tua famiglia ti ama. Sono da loro in questi giorni. Sono proprio da loro. Tonino è un po' arrabbiatello perché non vuole più vederti piangere. E il nostro amore è gigantesco. Siamo invincibili e quando uscirai vedrai. Avremo tutta la vita per stare insieme. Mi manchi da morire e ti amo da morire. Ma è importante che non ci fai soffrire. Vederti così fa stare male tutte le persone che ti amano, che si chiedono se è giusto che tu stia lontano da me. Non devi piangere più. Voglio vedere un altro duca. Ti chiedo di affrontare un nuovo percorso per te stesso, di divertirti un po' e di lasciarti andare. Al contrario, le persone vogliono che stiamo insieme. E noi per adesso non vogliamo questo. Perché il grande fratello lo devi vincere. Sei tanto amato. Fidati. E Alfonso Signorini ha voluto però aggiungere qualcosa a tutto questo. E ha detto da domani devi cambiare. Noi non vogliamo vederlo soffrire. Se è così è giusto che stia con me. Ma non voglio che esca. Suo padre è molto arrabbiato. E Luca ha avuto qualche minutino di tempo per un attimino riflettere, no? Pensare al suo futuro nella casa. E poi ha preso la sua decisione dicendo Mi viene questa malinconia. Ma che cosa ci posso fare? E vedendolo in difficoltà la fidanzata gli fa Ma questo percorso ci serve? Ci serve, serve per noi, serve per il ristorante. Ma è uscito fuori pure il ristorante. E ho preso l'impegno. Voglio portarlo fino alla fine. E allora lui si è deciso e mo' vedremo che succederà. Piro piro. Piro là. Questo è tutto per questa serie di scambi di opinioni. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo video. Come sempre ci becchiamo alla prossima Quando volete su Pausa Caffè Live O su Facebook o su YouTube Su tutte e due le piattaforme Perché two is milk one È vero o no? Ma se dice così Buh, vabbè. Ciao. Ciao.